comunque il discorso della cantante l'hai sempre avuto quindi immagino che Sanremo sia stata un'emozione molto molto grande un'emozione molto molto grande che è arrivata già sullo strascico dei miei sogni musicali nel senso che tu già avevi archiviato un po' sì stavo archiviando, ero in quel processo lì e stavo dicendo vabbè insomma forse mi dedico ad altro perché perché facevi questo ragionamento secondo te ma perché beh è un mercato molto difficile è un mercato impenetrabile io mi sforzavo tantissimo non vedevo i risultati che volevo non riuscivo a fare il tipo di musica che mi sarebbe piaciuto sì avrei voluto cantare in inglese invece non potevo insomma tanti discorsi tante componenti però mi è arrivata la proposta e ho detto beh cavoli dai prendiamola come uno la va alla spacca lo faccio e se va bene cavalchiamo ancora un po' quest'onda e se no insomma pacificamente dirò di aver lasciato la musica con Sanremo beh comunque hai fatto il festival di Sanremo come cantante in gara sì l'ha mai stato pazzesco e non hanno anche particolarmente importante io ero quell'anno ogni anno c'è la quota ma chi cacchio è? beh ti dici davvero io ero la quota chi cacchio è? è quell'anno lì 2017 no diciamola così però è sicuramente stata anche quella che do appunto per chi ama la musica come te è il sogno di fare anche la cantante l'altra cosa che un po' mi immaginavo io è anche quello che abbiamo detto all'inizio cioè il fatto che se tu fai la cantante e arrivi dalla conduzione da un'altra cosa allora in qualche modo non hai la credibilità per continuare su quella cosa lì tutti erano molto depistati da questa cosa ma come ma lei canta ma fa anche eh certo ma fa anche gottana ma quindi beh niente insomma ho provato a portare avanti questa cosa però guarda è stata un'accettazione molto serena quindi